Peter Marrell, marito dell'ex prima ministra Nicola Stargeon ed ex dirigente del partito nazionale scozzese, è stato arrestato. Sebbene la polizia non abbia ancora indicato pubblicamente il nome di Marrell, non ci sono ormai dubbi sull'identità dell'uomo di 58 anni, finito in manette, spiegano le forze dell'ordine, in relazione all'indagine in corso sulla gestione finanziaria del partito, dalla cui direzione lo stesso Marrell si era dimesso il 18 marzo. La notizia arriva poche settimane dal passo indietro di Nicola Stargeon, che ha lasciato la guida del governo scozzese dopo quasi un decennio. Il partito non ha voluto per ora commentare la notizia, limitandosi ad affermare in un comunicato che non sarebbe opportuno parlare di vicende sulle quali sono ancora in corso delle indagini. In ogni caso il movimento politico ha garantito di voler collaborare con gli inquirenti. Grazie.